Il mio favorito è il numero 6 di Lenni K3 Meccanica un po' complessa ma potenziale indiscutibilmente valido Poi Leon ZS e La Roche OP sono i quattro più seguiti a betting ma nettissimo e pronostico che lei afferma Campo dei partenti Lissandro Gianfranco Capenti, Leon ZS Massimo Barbini Lagunaera, Alessandro Grandi, lei afferma Rimoni, Le Mans PB, Edoardo Baldi, Lenni K3 Maurizio Pieve che ora è passato favorito con un po' di 2.08 In seconda fila La Roche OP, Francesco Facci Duara, Lei Marchetta di Nicola Leve Paolo Leoni, Labello Valda, Antonio Grippi Legacy di Poggio, Enrico Bellei, Lend Ok, Cloudlet, Gaetano, Gianna Lavinia Masta lontana Lagunaera in vantaggio Leon ZS attaccato da Le Mans PB E da Lenni K3 E poi lungo la corda Loire Allé Filtrata bene alla seconda fila Prima curva, Leon al comando Di rincalzo Le Mans all'esterno Lenni poi Loire Allé Tanto la rottura della favorita Insomma, della seguita lei afferma Passa Lenni dopo 300 metri E completa il quarto iniziale in 30 All'imbocco della seconda curva Lenni, Su Leon, Le Mans, Loisir Loire, Level in quinta posizione Poi ancora Labello Valda, Legacy di Poggio All'esterno Lend, Ok, Cloudlet Poi lei afferma rimessa Sbaglia intanto nel tentativo di risalita Le Mans PB Il giro se ne va in 1.1 Nella scia di Lenni K3 Sempre Leon ZS davanti a Loire Allé Che è raggiunta da Lend, Ok, Cloudlet Poi Level All'argo del quale Labello Valda rimesso con in terza Leia Fer Che è seguita da Legacy di Poggio 17, primo chilometro Lenni in vantaggio Anche a 400 dal palo Su Leon E Lend, Ok, Cloudlet Poi Leia Ferm Un bocco della curva conclusiva Con Lenni K3 Su Leon Poi Lend, Ok, Cloudlet Legacy di Poggio Che sceglie le vie brevi Filtrando all'interno di Leia Ferm Si riavvicina anche Le Mans Ingresso della retta di arrivo Sbaglia ancora Le Mans Intanto mentre Lenni è attaccato da Leon Leon rimonta Lenni Leon che nel finale prende il sopravvento Su Lenni K3 Poi Legacy Leia e Lend Ok, Cloudlet 2-3 scarci sul mio cronometro La vittoria per Leon ZS Del signor Walter Zanetti Il training di Giuseppe Talè In Salchi Un impeccabile Massimo Barbini Al totalizzatore Leon ZS Paga 5.07 Secondo posto per Lenni K3